Il piromane arriva alle 20.53, ripreso dalla videocamera di sorveglianza posizionata all'ingresso dell'emittente, in mano a una tanica di benzina. Con passo deciso va dritto verso il portone d'ingresso. Sa bene che a riprenderlo c'è una telecamera che registra ogni suo movimento, per questo, quando è più vicino all'obiettivo, gli viene quasi distinto coprirsi il volto con una mano. Poi inizia il lavoro, versa il liquido infiammabile nella fessura della porta per assicurarsi che entri all'interno dell'edificio. Ad un certo punto alza anche lo sguardo per vedere se l'operazione sta riuscendo. Infine getta la benzina che resta nella tanica per provocare la fiammata e crea una sorta di miccia per l'accensione in sicurezza. Versato il liquido, prende frettolosamente dalla tasca un accendino e dà fuoco. Poi si dà la fuga, uno scatto fulmineo che fa presagire che dietro quella sagoma si nasconda un soggetto giovane molto agile. Intanto le fiamme raggiungono i tre metri d'altezza, anneriscono completamente la facciata esterna dell'edificio, penetrando all'interno della reception e bruciando, per fortuna, solamente un tappeto ed un portavaso. A dare l'allarme sono tre ragazzi che, 50 minuti dopo l'incendio, quindi alle 21.40, notano il muro esterno e il portone d'ingresso completamente anneriti dal fumo. E quando vedono le fiamme nella sala d'ingresso ancora accese, decidono di chiamare il 115 dei vigili del fuoco, che poco dopo arrivano con due mezzi. Aprono la porta e spengono quel che resta dell'incendio. Sull'episodio indaga la procura di Pesaro, che ha affidato le indagini al commissariato di Fano. Gli agenti per tutta la mattinata hanno ricontrollato palmo a palmo la zona attorno alla sede, i filmati di altre telecamere, comprese quelle dei distributori self-service di carburante. Per il momento ogni pista resta aperta, da quella del mitomane che ha agito per vedere in diretta l'effetto che fa interrompere un telegiornale appiccando un incendio, al gesto, forse su commissione, di qualcuno che si è sentito, per così dire offeso, da uno dei nostri tanti servizi di cronaca e che in questo modo abbia voluto farcela pagare pensando di farci fare la fine del topo. Grazie.